svelati retroscena del botta e risposta tra tina cipollari e giorgio manetti ecco cosa è successo tra i due svelati retroscena dietro l'inaspettato botta e risposta tra tina cipollari e l'ex cavaliere di uomini e donne giorgio manetti ma procediamo con ordine nel periodo trascorso dall'uomo nel parterre del trono over infatti i due avevano stretto una bella amicizia giorgio non aveva mai nascosto la sua stima pertina la quale dopo alcuni attriti iniziali si era schierata totalmente dalla parte di manetti andando contro la storica nemica gemma galgani difatti lo stretto rapporto tra i due con tanto di nomignoli come passerotto e passerottino aveva fatto esplodere di gelosia la galgani più volte addirittura l'amicizia era continuata fuori dagli studi televisivi dato che la cipollari era solita fare visita a giorgio quando andava a trovare a firenze l'ex compagno il ristoratore vincenzo ferrara per questo in tanti sono rimasti sorpresi nel leggere le recenti dichiarazioni di manetti contro tina nel corso di un'intervista a tag 24 giorgio l'ha definita una bulla che dovrebbe essere cacciata dalla mediaset considerando le nuove linee guida imposte da pier silvio berlusconi un'uscita veramente inaspettata alla quale la cipollari ha voluto subito replicare in un commento lasciato su instagram l'opinionista di uomini e donne ha prima assicurato che il suo posto nel programma è più che salvo e successivamente ha definito manetti un irriconoscente ma cos'è accaduto esattamente tra di loro a svelare i motivi dietro questa diatriba è stato l'esperto di gossip a medeo venza